eccoci qua siamo dal notario abbiamo appena finito la stipula dove Ilaria e Riccardo hanno comprato la loro prima casa e mi stavano giusto dicendo che questa notte non hanno dormito molto perché la cosa mette sempre una certa agitazione quindi chiedo a loro come si sono trovati con Elena Lughetto con travenite immobiliare e come siamo arrivati a questo giorno confermo innanzitutto il fatto che sia stata una nottata un pochino frittante, tesa, un po' difficile prendere sonno però vabbè è stato un passo importante siamo contentissimi di come Elena ci abbia trattato perché comunque ci ha seguito dal punto zero fino ad oggi in maniera super anche perché noi totalmente profani di tutto abbiamo un po' avuto bisogno di qualsiasi spiegazione di ogni aspetto perché non sapevamo minimamente cosa fare quindi ci riteniamo super soddisfatti di tutto quanto sempre disponibile sempre puntuale quando è servito andare dalla banca c'è stato un problema nell'ultimo minuto è arrivato al subito il soccorso quindi siamo super contenti ci ha sollevato praticamente da tutte le parti noiose si è vero c'è comunque parecchia burocrazia e diciamo che io mastico quotidianamente tutti questi aspetti mentre mi rendo perfettamente conto che non è lo stesso per tutti i miei clienti e spesso la cosa più importante sempre mantenere il canale aperto e infatti così è stato perché ogni volta che c'è stata qualche necessità nel momento in cui mi viene comunicata io ho anche grande possibilità di risolverla o comunque di intervenire quanto prima quindi direi che a questo punto siamo tutti promossi ampiamente quindi non posso farvi veramente i miei migliori auguri la vostra nuova casa grazie e poi vero bene un caffè quando sarà il momento segui anche la casa da zero te stavamo parlando ieri sera per invitarla a bere un caffè esatto anche perché per me le case sono un po come i miei bambini e quindi mi piace sempre vedere diciamo così come crescono è già rivederla venerdì che è già stata esattamente quindi grazie e buon proseguimento grazie a te ciao grazie grazie a te Grazie.